Novità per il traffico a Teramo. Arrivano i dissuasori di velocità intelligenti e le strisce pedonali con vernice catarifrangente. Sì, si sta lavorando sulla sicurezza dei pedoni e ci sono dei prodotti nuovi per quanto riguarda i passaggi pedonali sia rialzati che catarifrangenti, più alcuni dissuasori di velocità che vanno dai classici totem della pulizia per dissuare la velocità, ma anche dei cartelloni luminosi dove dei ragazzi raffigurati indicano se l'automobilista supera la velocità dandogli un segno col pollice in basso oppure ci sono diverse situazioni in cui si sta lavorando per queste nuove tecnologie. Novità high tech, dove verranno posizionate? Soprattutto nei luoghi più sensibili, si parla davanti le scuole ma anche le zone di maggior traffico come possono essere via Po o piazza Garibaldi. Sì, stiamo pensando, abbiamo una piccola somma a disposizione, oltre che abbiamo risposto a un bando regionale per quanto riguarda la sicurezza stradale dell'intera città. Noi abbiamo pensato in questa prima fase di iniziare i tre punti di ingresso alla città, c'è via Po, la Cona e via Le Bovio davanti a tutte le scuole più importanti di Teramo. Questa è la somma che abbiamo a disposizione, dunque le prime sistemi verranno attuate in queste zone. Poi se il finanziamento regionale verrà accordato, provvederemo anche nella maggioranza della città di Teramo. Tempi di realizzazione del progetto? Allora, questi qua, diciamo il primo intervento di circa 20.000 euro verrà fatto a strettissimo giro, pensiamo prima dell'inverno di attuare questo nuovo sistema. Dunque per l'altra aspettiamo il finanziamento, come ho detto, il finanziamento regionale per poi vedere come attuarlo.